Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA In questo nuovo gameplay di Splinter Cell Blacklist Quindi proseguiamo con la missione Ok, la fabbrica abbandonata l'abbiamo fatta Ok, quartier Tehran, Iran, compagnia salitaria Quartier generale, missioni speciali Ok Questo briefing ce ne frega niente, andiamo col vero briefing L'Iran non ci vuole aprire, chi se ne frega? Boom, boom, buttiamo giù con la cazza di porca Tutte bugie, ancora una volta i bulli americani gridano al terrorista Cosa abbiamo combinato? Abbiamo trovato documenti, ma non la prova del coinvolgimento iraniano Non sembrano molto interessati ai dettagli Che siano falsi oppure no, il congresso vuole sangue e vede solo l'Iran La Coldwell dichiarerà guerra se non le daremo altre soluzioni E noi ce le abbiamo? No Ma abbiamo questo L'ambasciata americana in Iran, ma non è in mano alla forza Cuts? Idea ambiziosa per la Coldwell Non è sua È mia Quindi? Che facciamo? Non glielo diciamo e basta Non diciamo alla presidenza degli Stati Uniti che andiamo in Iran È questo il tuo piano? È rischioso Grimm, persino per noi Solo così impediremo una guerra O la scateneremo Ok andiamo Andiamo a Teheran Dobbiamo fare in fretta Neppure il nostro governo deve accorgersi di nulla Mi viene da vomitare Concentrati Possiamo avere un drone in volo senza che ci attacchi Ho fissato l'exploa che hanno usato gli ingegneri Ha aggiunto un layer di verifica e installato un kill switch hardware Un sì era sufficiente Charlie Dove ti serve Briggs? È andato Vuoi farlo da solo? Come entriamo? Mostrami Non come Kill ci farà entrare Lo invio sul tuo Opsat Questo è uno dei palazzi più sicuri della Terra Non c'è modo di Entrare non sarà la parte difficile I server sono isolati Dobbiamo estrarre fisicamente i dati Invio i dati hardware alla tua postazione Ma non possiamo Meno no, più sì Charlie Solo la distruzione ti intera entrare e uscire dal quartier generale dei Curs Con le MP puoi sorprendere il nemico Mentre con il trirotore eviti le imboscate Ok, l'MP lo devo comprare Tra l'altro Ok, acquista usa Porca Ok, lacrimogeno non ce ne frega niente Quindi Perfetto Perfetto Vabbè, forse le grenade Medio di no Aspetta un attimo anche Voglio essere sicuro Ok, il trirotore E andiamo con la missione Quartier generale Missioni speciali Tehran, Iran Infiltrati nella quartier generale della forza Allora, che cazzo c'è scritto Recuperi i dati Che la collegano alla blacklist Ottimo Bene Quindi Bisogna infiltrarsi Reduco che Sarà molto stealth Perfetto Tehran, Iran Uè Cos'è un fake? È la statua della libertà Bolo Agelecon C'è te tu Amar Ciao Un pisolino È un piacere Generale Io non parlo Alle spie americane Nemmeno quando hanno sottotiro Sua moglie e suo figlio Erano loro Quelli appena usciti dal mercato Giusto? Ah, gorme Sabzi per cena Bastardo Faccia un bel respiro E ci pensi molto bene Devo entrare nel quartier generale della forza Quds Mi servono risposte Non c'entro niente con la blacklist Non basterà la sua parola a fermare una guerra Deve farmi entrare Indossi questo Ok Let's go Dica un tubo Che sia chiaro Se fa male a uno dei miei uomini Smetto di cooperare Non sono qui per fare male a nessuno Si muova Sam Il bluff ha funzionato Dammi conferma Confermo Dice a me Tu hai le sue mali e americane È per farle sapere che non sono solo Molto gentile Sam Quando sei dentro Accedi ai server e connetti il rail che ti ho dato È preparato per estrarre tutto quello che hanno sulla blacklist Ricevuto Superare le guardie non sarà una passeggiata Passargli sopra la testa potrebbe essere più facile, Sam E io questo sto facendo Guarda lì, buongiorno Mi piace come avete arredato Sì, lo abbiamo rimodernato dopo il 79 Staglio la guardia Dai, toglimelo dalle palle Dai, su, 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 su Guarda lì, buongiorno Sì, sì Eccola lì Eccola lì, la stata fake della libertà Ok Oh, oh Dai, su Dai, sparisci Oh, 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 oh Ninja Tu non mi hai visto Quello dove cazzo è? Ah, ok Lì Così non fare scherzi, eh Pezzettone di cacca Ok Ehi Vedi quel garage È la nostra via d'accesso Ma alla guardia penso io Nel telecamere sono un suo problema Va dal garage Ci troveremo lì Ok, telecamera è un mio problema Io ho dato il passo da quassù Teoria non dovrebbe vedermi Ok Allora Ti, ti, ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Sono nel garage Generale Mi aspetti al piano terra Non mi piace, Sam La frase pronunciata dal generale nella stanza di controllo Non corrisponde al suo modo di parlare Forse in codice L'IMS dà una probabilità del 37% Attenzione Ooooo Ooooo Ancora con me Ooooo Che bella notizia O caro, mi stava... O mamma Please How is it? And if I didn't? Oh shit Mi seguo in fretta Dalla sorveglianza che dobbiamo superare Il C per RFID che ho La disattiva per breve tempo Perché mi sta facendo superare difese simili Perché non mi ha lasciato altre opzioni È l'unica via d'accesso Per arrivare dove? Alle celle Dove terremmo la gente come lei Che si intromette nei nostri affari Sono qui per fermare una guerra tra due paesi Detto da uno che ha un drone sullo spazio aereo iraniano A volte non c'è tempo per negoziare Parole davvero soldato Io non c'entro niente con i droni Buongiorno Salve Sto vicino Perché si è fermato? Preferisco vedere i miei familiari morti Piuttosto che farli vivere da traditori C'è una differenza tra stupidità e coraggio Generale Oh merda Americani Che ne sapete voi del coraggio? Sono arrivati gli inservienti Ve ne andate in giro Puntate le armi Minacciate gli innocenti Non avete idea di come fermare la blacklist, vero? Mi insegno io come si trattano i terroristi Grim Ora Oh porca vaca Oh che bata Bel lavoro Merito anche di Charlie Ha hackerato la security dei codes per togliere la corrente Yeah Bravo Charlie Ok Vedo un ascensore ma è bloccato Non hai l'RFID per passare Ma le guardie si Attaccati sul cazzo Ok Santa merda Ok Wow Oh 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 Ok Ok Voi non mi vedete Io non mi vedo Tutututututututu Tutututututdu È tornata la corrente Stanno bloccando le scale Cazzo È tornata la corrente Sb Sb no Ok Duke Carichiamo un po' Grim vado al piano dei server Un po' l'inventario Intercetto le loro comunicazioni Chiamano una squadra di risposta rapida Ti verranno a cercare piano per piano Ricevuto Charlie guidami nella decrittazione Sul Drive c'è un algoritmo di ricerca Troverà e scaricherà tutto quello che hanno su Sadika la blacklist Collegalo dovrebbe estrarre tutti i dati Dovrebbe? Yeah Sì funzionerà Spero per te Charlie che funziona Sam ti stai avvicinando al server Hai due opzioni Ok per non far rumore entra dal sistema di raffreddamento sotto al server Altrimenti passa dal terminale dietro la stanza e hackerà la porta Ricevuto Ma che cazzo dici? Io faccio tutto stealth Spero di poter farlo tutto stealth E se non riesco a farlo tutto stealth ragazzi Mi sa che qua faccio un casino Mi metto a sparare a max Oh guardate lì chi c'è Una guardia Ciao guardia boom Buonanotte Porco cane che cosa è successo? Ho avuto un bug Tu la nascondo tu Tu non hai visto Oh cazzo c'è un'altra Porca troia Oh cazzo 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 c Piano pianino, piano pianino, qua non ci vede nessuno. Oppala! Vedo per cazzo. Ok, allora, adesso aspetto che tu ti levi dalle palle, eccoti lì. Ma fa culo! Cazzo. Cazzo vuoi. Ci voleva questa. Dai, vieni qua, cazzo. Dai, non puoi dormire sulle scale, dai! Ma Dio. Allora! Ma cazzo! Ma guardate dove cazzo si è messo sto stronzo che mi riesco a prenderlo. E allora va a fanculo, resta lì. Allora, sotto il server, ok. Quella è la stanza del server. Quindi sotto... Presimo che... Prima pensa al gas di raffreddamento, Sam. I comandi dovrebbero essere lì vicino. Ok, sarà questo? Sì. Sì. Tup. Cazzo. Sì. Non passa ecco di... Ah, c'è quegli elettrici al massimo. Sì. Allora. Aspettate un attimo che qua è meglio prendere questo. Vediamo quanto sono lassù, tra l'altro. Ok. Sì. Buonanotte! Ok, allora, tu. Tu, 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 tu. Qui serve per dopo, quindi lo lasciamo cadere. Ma cazzo, dovevi cadere nel buco! porca vacca prendi giù nel buco ecco cane e girati ok merda questo cazzo faccio passare lì aspetta magari questi qua hanno i loro strusi oh che culo tieni premuto per acqua del corpo drive attivo ok aspetta che si completi il trasferimento le porte del server sono aperte procedete con la riserca cazzo aiuto vogliamo venire a prendere parpagliatevi e cercate ora oh 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 no fate attenzione bene trasferimento completato forse ho qualcosa niente continuo a cercare ho il drive muoviti muoviti continuate a cercare c'è del fumo aspira ma è ferito gravemente eh 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 l'hanno speso dobbiamo trovare chi è stato sono stato io ah 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 e non mi troverete mai ah 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 disse l'ultima volta prima di morire ammazzata anche av voi che so ah sei ok conquistare hai che sud Avanti, cazzo delto. Mi serve una mano. Sono potere. Niente qui. L'area è libera. Dividiamoci. Ok, posso andare a prendere ancora un po' di munizioni? Dividimi di sì. No. Grim, sappiamo in cosa mi sto infilando? Negativo, Sam. L'IMS non dice niente. Vai, salta su, cazzo. Panico, paura. Panico, paura. Cazzo, non so dovevo andare. Vado di qui. Ah, cazzo. Ciao, amico mio. Ragazzi, non so dove cazzo sto andando. Ma fa niente. Spero di trovare una via di uscita. Oh, oh. E che cazzo, sei blindata? Lampadina di merda. Cristo. Ma che cazzo è? Sei scemo? Cioè, avete visto come è entrato tutto questo? Cazzo, 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 cazzo. Ah, fammi, bro. Fare qualche bordello qua. Ok, gasso porito ne ho. Acustico, MP, campalle, gas elettrico. Ecco che ho. Nice, troncet. Ma tutto. Grazie a tutti. Cazzo. Dobbiamo trovarlo. Oh no. Dove cazzo faccio far venire questo dì? Ah, sta venendo da sopra. Ok, stronzola, bailata, tabola, tabola, tabola. Cazzo. Cazzo. Ok, vieni qui. Sono nell'atrio, esco dall'edificio. Sam, c'è un cancello di sicurezza sulla tua via di fuga dal giardino. Dovresti essere vicino a una sala comandi. Accedi al terminale e vedremo di aprire le porte. Oh, che figata. Oh, bello. Eh, muoviti però. Ehi, bravo. Oh, merda. Oh, cazzo, quella è grossa. Oh, che è quello lì, buonanotte. Guarda, ero lì, l'altro. È svenuto, sbarbagliatevi e cercate. Non far ridere, amico. C'è qualcosa, gente, cercatelo. Oh, non far ridere, amico. Continuate a cercare. Tien, tien. Sono un ninja. Vediamo un po' che cazzo di bordello adesso qua. Oh, 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 oh. Briggs. Sta arrivando Briggs con un furgone. Briggs. Litigheremo dopo che ti avrà tirato fuori. Lì, lo trovi dall'altra parte del giardino, all'esterno. Dai, ma perché? Che buona notte, sono in oro. Ok, ok, ok. C'è anche quel coglioncino lì. Stai girato, stai girato, stai girato, stai girato, stai girato, stai girato. Oh, oh, oh. Eh, buona notte. Lo sparo veniva da quella parte. Vediamo se non è riuscito ad avvitare qualcuno. Sto fai, steri fuori giù. Oh, che palle. Continuo a sbagliare. E qua è, porca miseria. Oddio. È lì, è lì, è lì. Ci sono forze ostili tra te e il furgone, Sam. Indossano corazze da combattimento pesante. Grazie dell'avvertimento. Ok. E quello che cosa cazzo è? Deve essere lì! In realtà io sono qui. In realtà io sono qui. Degli spari, cerchiamo finché non troviamo chi li ha sparati. Oh, oh. 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 Beh, io me ne vado. Eh, 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 ciao. Oddio. Vai! Il drone rileva più di 12 velicoli in arrivo. Bene, penso che abbiamo finito la missione, no? Oh, forse no. Eh, oh merda. Ok, direi che forse... Cosa intendi? Pop, 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 pop. È l'ultimo dei problemi. Oddio. Missili aria e terra attivi. Oh. Possono ricostruire i miei droni di stadio di fu. Ok. Armi pronte sul drone. Grim, spero tu sappi a cosa hai accetto. Eh, c'è un drone. E vai. Yeah. Veicolo eliminato. Sì, sono il drone. Veicolo nemico eliminato. Mi sento un drone. Yeah, boom. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai, vieni, 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 vieni. Boom. Veicolo nemico eliminato. Nemico eliminato. Oh, oh. Ci stanno notando. Non sono bravo col farci, ma le frequenze militari iraniane stanno in passaggio. Ne vai. Tra poco ti attiveranno anche le difese aerei. Oh, ok. Quindi lì ce l'hanno con me, mi sa, eh. Il nemico eliminato. Veicolo eliminato. E non riesco a prenderlo, cazzo. Il nemico eliminato. Veicolo eliminato. Veicoli all'inseguimento bloccati. Siete al sicuro. 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 Forse l'abbiamo finita. Forse l'abbiamo finita. Ok. Fantasma. 17 nemici disturbati. Ma sì. E va il trofeo. Dati iraniani ottenuti. Eh sì. Abbatti furtivamente. 26%. 26%. 25 normale. Ok. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. Vabbè. Ci sarà un po' di... Diciamo... Roba di pantera. Sì. 10. Ho fatto un po' di... Uccisioni tattiche. Ma mi sa che ci sarà anche qualche uccisione in assalto. Infatti 4. Purtroppo. Quando ce l'ho... Esattamente. Esatto. Esatto. Dai. Molto pochi però. Dai. 42 minuti. Completata in meno di 75. Perfetto. Ormai più o meno le missioni qua sono circa sempre sui 40 minuti. Così i gameplay vengono lunghi 200 minuti. E chissene. Bonifico ricevendo. Capisco bene che un attacco non autorizzato sia stato... Non è stato un attacco. Solo lo sfortunato malfunzionamento di un drone. Ovviamente. Sei su quell'aereo per un motivo. Mi aspetto che tu sia i miei occhi e le mie ore... Lo sono, presidente Coldwell. No, se non posso fidarti. Avanti. Non dirmi che ti aspettavi un grazie. Avresti fatto la stessa cosa al mio posto. Rischiare una guerra per salvarti la vita? L'ho fatto solamente per il bene della missione. Vedo che la Coldwell non è l'unica a inventarsi storia. I dati che abbiamo escludono ogni legame dell'Iran con la Blacklist. Non è questo che intendevo. Lo so cosa intendi. Credi che io abbia fatto un errore, come Briggs a Londra, vero? Le decisioni che dobbiamo prendere non sono sempre estreme, Seth. Ma non possono essere personali. Davvero? Allora prova a dare l'esempio. Sappiamo entrambi che rischieresti tutto se ci fosse in gioco la vita di Vic. Vic non ha a che fare con questo. È il motivo per cui sei su questo aereo. Per te più di una missione vale solo la squadra. Grim. Grazie. Se vuoi ringraziarmi, parla con Briggs. Ci servirà se vogliamo farcela. Ehi, ragazzi. Il tracciante sull'arma chimica. È quasi in territorio americano. Completata. Perfetto. Bene. Ok, ragazzi. Questo gameplay finisce qui. E niente, vi aspetto ai prossimi gameplay. Bella a tutti. Ciao ciao da GeneticDNA. Ciao.